Sono da affittare la puntina del movimento del 27 che probabilmente avrebbe anche di alzare la testa e cercare un po' dei compagni al centro dell'area di Vigora, preferito calciare verso la porta di Armani impegnato poco fa, invece dal destro la porta di Maximiliano Coppa, uno dei nuovi acquisti di questa formazione, l'ex di Antesserio Guando in...